guardia di finanza lavoro sommerso e capi d'abbigliamento contraffatti il risolto il guasto al cup regionale riattivato solo lo sportello laura biagiotti dall'ordine degli infermieri a sindaco di acqualagna il giorno di fiorello ad urbino che riceve il sigillo d'ateneo a pesaro e fano torna il giro d'italia delle cure palliative pediatriche martedì 21 maggio buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale apriamo questa edizione con la cronaca è un mese di maggio di intensificazione di controlli da parte della guardia di finanza di pesaro che ha scoperto sul territorio diversi casi di lavoro sommerso e di merci contraffatte vediamo 11 lavoratori in nero e un esercizio totalmente sconosciuto al fisco questo l'esito dell'intensificazione dei controlli della guardia di finanza nel pesarese nel solo mese di maggio 11 lavoratori in nero su 54 identificati al momento dell'accesso in 20 esercizi controllati nello specifico del territorio di monte labate un locale che utilizzava lavoro sommerso è risultato addirittura essere sconosciuto al fisco nell'ambito dei controlli sono stati anche effettuati 32 verifiche in materia della corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscale dove sono state riscontrate 13 irregolarità oltre la capillare attività su strada contrasto di consumo e sostanze stupefacenti l'attività ispettiva delle fiamme gialle sul territorio ha permesso anche di sequestrare penalmente 392 capi di abbigliamento contraffatti e confiscare amministrativamente 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla regione Marche continua ad essere solo parzialmente accessibile il servizio sanitario del cooper regionale andato in tilt da tre giorni da sabato notte il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie pubbliche è andato in blocco a causa di un guasto riconducibile ad un'anomalia tecnica o ad un ipotetico attacco hacker dalla regione anche quest'oggi si è riferito di una situazione in via di graduale risoluzione risultano infatti ripristinati solo alcuni servizi di prenotazione allo sportello ma fino a questo pomeriggio continuavano a rimanere disattivate le prenotazioni online e via telefono e restando in tema di telefonia anche le maxi antenne di comunicazione entrano nell'agenda della campagna elettorale di pesaro a portarcela il gruppo di alleanza verdi sinistra che analizza la prospettiva di una crescente problema di elettrosmog alla luce dei recenti provvedimenti del governo nazionale c'è anche l'elettrosmog quale tema di riflessione in questa campagna elettorale a pesaro a portarcela il gruppo di alleanza verdi sinistra che sostiene la candidatura sindaco di andrea biancani e che mette sul tavolo dal punto di vista politico una criticità emersa dopo che il governo nazionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con i gestori di telefonia mobile per innalzare l'esposizione delle onde elettromagnetiche temi che alleanza verdi sinistra affrontati in municipio la presenza di beatrice grasselli lisetta speridei e alfio turco amministratore di polab che con l'assessorato alla sostenibilità di maria rosa conti aveva fin qui stilato il piano di regolamentazione delle collocazioni delle antenne di telefonia sul territorio pesarese i due focus principali su cui da un punto di veramente da un punto di vista politico e partitico è necessario focalizzarsi è la necessità o meno di proporre da parte di fratelli d'italia al governo questo aumento da 6 a 15 volt metro sappiamo che è passata questa legge in parlamento a fine dicembre e poi nei 120 giorni successivi non essendoci state molte manifestazioni da parte del degli enti locali in italia alla conferenza stato regioni purtroppo è diventata definitiva al 30 aprile e quindi noi ci troviamo come unico paese in europa ad avere un aumento all'esposizione da 6 a 15 volt metro ma con una misurazione che non è precauzionale rispetto a tutti gli altri paesi europei questo ci tengo a sottolinearlo nel senso che in europa si misura l'emissione entro i sei minuti noi lo facciamo nelle 24 ore questo significa che abbiamo una moltiplicazione fino al 300 per cento nel senso che noi possiamo avere durante la giornata uno sforamento da 15 a 45 volt metro posso testimoniare che la comunità scientifica è sicuramente preoccupata di questo innalzamento anche perché l'innalzamento non è stato subito accompagnato da norme attuative che consentono dei controlli efficaci da parte delle agenzie quindi in questo momento c'è anche un po' di confusione sull'attuabilità delle norme. Trattandosi della salute dei cittadini dovremo approfondire la questione prima di portare a questo tipo di innalzamento e molto probabilmente sopra i 25 volt metro ci possono essere delle conseguenze in particolare sulle categorie fragili che sono i bambini da 0 a 12 anni con l'uso del cellulare e di altri dispositivi. È impensabile oggi l'idea di non avere reti e di non avere servizi. La differenza la fa il governo del territorio come queste si sviluppano, si articolano e quanto si riesce a ottenere come obiettivo in termini di tutela della salute per i cittadini. Restiamo in tema di elezioni a Pesaro e andiamo a conoscere le proposte del gruppo di Forza Italia Noi Moderati e Udc che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Lanzi. La squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Lanzi si è completata con la sesta e ultima lista a presentarsi in ordine cronologico. Quella del gruppo di Forza Italia Noi Moderati Udc presentatosi al bar-ristorante Utopia del Parco Miralfiore, sospinto dall'ottimismo di chi crede fermamente che a Pesaro i tempi siano maturi per la svolta del cambiamento. Riteniamo primo che Marco Lanzi sia una risorsa importante e che la città di Pesaro non possa sciupare questa occasione che ha di finalmente provare un'alternanza dopo 70 anni di passi di governo di un colore solo. È una brava persona e abbiamo creato intorno a lui una bella squadra e un programma molto valido. Noi riteniamo che Forza Italia senza presunzione ma abbia e deve avere e avrà un ruolo importante in questa competizione elettorale perché ci mette competenza, ci mette esperienza e ha i decchiare su quello che è il futuro della città. Fra i temi esternati, quelli dell'istituzione e di un'assessorata alle manutenzioni ma anche una diversa gestione del porto così come della cultura cittadina. Precisa sulla cultura, per esempio, riteniamo che la città di Pesaro non stia utilizzando in pieno le capacità che questa bellissima città con una storia importante ha e poi riteniamo che debba cambiare la modalità di amministrazione e che tutte le decisioni che l'amministrazione deve prendere devono essere in condivisione con i quartieri, con i cittadini e su questo noi daremo il nostro contributo. Da Cecconi ad Alessandro Di Domenico, dal segretario dc Fabio Giovannelli all'ex candidato sindaco Marco Zanotti, un gruppo di lavoro esperto che ha ricevuto nell'occasione il sostegno della candidata alle europee Graziella Ciriaci e dell'assessore Stefano Aguzzi. Io apprezzo molto la scelta di Forza Italia, del mio partito, in questa città di sostenere la candidatura di Lanzi perché secondo me è una ottima candidatura che può avere anche possibilità di vittoria, al contrario di quelli che molti pensano ma la peso la sinistra ha sempre governato, anche a Fano la sinistra aveva sempre governato quando nel 2004 io mi candidai e la sconfissi. Poi c'è un'altra questione che va chiarita, tendenzialmente la sinistra dice solo noi siamo capaci a governare, solo noi abbiamo la cultura di governo dove hai sempre governato è chiaro che tu hai una cultura di governo ma non è detto che non la possono avere anche da altri ecco a Fano quando io vinsi nel 2004 mi sentivo dire proprio questo non hanno cultura di governo, bene, credo che i miei dieci anni da sindaco a Fano con la coalizione di centrodestra abbia invece dimostrato il contrario che noi non solo abbiamo cultura di governo, ma abbiamo delle grandi capacità quindi è troppo facile dire solo noi siamo capaci di governare facciamo provare gli altri e sono convinto che chi non ha governato mai e ancora più voglia, oltre alle capacità, di dimostrare di fare bene. Dal Consiglio Comunale di Pesaro alla corsa sindaco di Acqualagna Laura Biagiotti per 17 anni, presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Pesaro e Urbino si è candidata ad amministrare quella che da un decennio è la sua terra d'adozione. Laura Biagiotti l'abbiamo avuta ospite proprio oggi negli studi di Rossini TV. Essere il primo sindaco donna di Acqualagna, questa è l'aspirazione di Laura Biagiotti che dal territorio di Acqualagna di fatto è stata adottata negli ultimi anni e che non è nuova esperienze politiche ma che dopo una lunga esperienza, 17 anni alla presidenza dell'Ordine degli Infermieri, ora affronta questa nuova avventura con quali obiettivi? Sarebbe veramente bello e interessante poter diventare il sindaco della capitale del Tartufo, della grande per me cittadina come è Acqualagna. Non mi ha dato i Natali, è vero, però posso dire che ci vivo ormai e frequento Acqualagna da più di 12 anni, di mora fissa, mentre prima già la frequentavo da bambina con la mia famiglia e devo dire che poter pensare che un'infermiera diventi sindaco penso che possa essere un orgoglio di tutta la nostra professione sanitaria, quindi non per me ma anche per tutti i miei colleghi e soprattutto riuscire ad andare a governare una cittadina come Acqualagna che ha sicuramente tanti pregi, ha da dare veramente tanto, non solo agli acqualagnesi ma a tutta la nazione che può venire a visitare le bellezze di Acqualagna. Il tema della sanità è un tema centrale nella sua esperienza professionale che diventa anche centrale per quello che è un comune come Acqualagna? Beh sicuramente è uno degli aspetti che noi andremo a trattare proprio nel nostro programma elettorale, anche perché le nostre difficoltà essendo un paese dell'entroterra non sono poche. Di certo il mio obiettivo sarà quello di instaurare subito il rapporto con i cittadini, aprire uno sportello di informazione per poter aiutare, supportare la cittadinanza a venirne fuori da tutto questo groviglio di mancanza di assistenza sanitaria, di difficoltà anche a prendere la semplice prenotazione per un esame diagnostico o degli esami chimici. Come è composta la lista civica a sostegno di Laura Piazzotti? La nostra lista civica che si chiama Prospettiva Futuro sta proprio a rappresentare la voglia di portare una prospettiva futuristica in Acqualagna, decidere oggi per quello che dovrà essere Acqualagna domani. Ed è composta da 12 candidati che rappresentano sia un pensiero politico di sinistra sia un pensiero politico di destra. Quindi è trasversale. Ci uniremo insieme per portare avanti gli obiettivi per Acqualagna e abbiamo persone meno giovani che porteranno già la loro esperienza che hanno sia in campo amministrativo e politico in Acqualagna e la loro grande professionalità e le persone anche meno giovani fino a una ragazza di 19 anni che porteranno le loro brillantezze, le loro fantasie e le loro voglie di far emergere le bellezze di Acqualagna. L'assessorato alle politiche del lavoro della Regione Marche ha annunciato oggi l'attivazione di un bando da un milione di euro che prevede l'erogazione di aiuti alle imprese per l'assunzione di soggetti disoccupati. La riunione settimanale di giunta ha approvato le linee di indirizzo dell'intervento che sarà finanziato con risorse POC Marche 2014-2020. Criterie e modalità operative saranno dettagliate nell'avviso pubblico di attuazione della delibera nella quale verrà erogato un incentivo pari a 26 mila euro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato e 6.500 euro per assunzioni a tempo determinato. Ed ora cambiamo completamente argomento per spostarci all'Università di Urbino che oggi ha ospitato Fiorello per un'occasione molto speciale, cioè il conferimento del sigillo d'Ateneo al popolare showman, presentatore televisivo che per un'ora e mezza si è intrattenuto con gli studenti dell'Ateneo in un appassionante lezio magistralis. Osservatore attento dell'uomo ne interpreta le stanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo. Questa è parte della motivazione che oggi ha portato a conferire il sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino a Rosario Fiorello che per l'occasione è stato accompagnato dalla moglie e pure dalla madre. Fiorello si è intrattenuto con gli studenti attraverso una lezio magistralis dal titolo La mia vita, la mia carriera, lo stesso grande spettacolo. Guidato dalla simpatia, dall'estro e dal carisma di sempre, Fiorello ha portato gli studenti in un viaggio sulle sue origini, il suo approccio alla professione, i dubbi e le certezze che lo hanno sempre accompagnato. L'insicurezza è quella cosa che mi ha portato sempre avanti perché chi è sicuro, troppo sicuro di se stesso, come dire adesso vado e gli spacco tutto, adesso quelli non arrivano mai da nessuna parte, devi sempre avere quel margine di dire ma ce la farò? Sì ce la devo fare ma ce la farò? Io prima di venire qui dicono ce la farò? E già un'ansia che mi si mangiava ieri sera, c'è mia moglie qui, c'è Roma domani, i ragazzi che gli dico, che gli racconto, è stato sempre così, è stato sempre così. Per me, l'ho detto prima dietro le quinte, per me essere invitato a un battesimo e dire due parole per il figlio dell'amico e la prima serata a Sanremo è la stessa cosa l'ansia, non mi cambia, sudo e mi sudano le mani. Quindi cominciai a fare l'animatore, cominciai a fare l'animatore e lì mi viene in mente quella roba lì di Walter Chiari e dico, ma come facevano questi? Come facevano questi? E gli venivano le battute proprio quando gli dovevano venire, perché io ero veramente un folle, io ero pazzo, se io penso oggi quello che ho fatto prima, cioè io uscivo, si apriva il sipario, al villaggio non avevamo mezzi, non c'erano scenografie, non c'eravamo l'orchestra, non c'era niente. Io uscivo e improvvisavo, cioè io andavo a cazzo, fino a che mi veniva una cosa la gente cominciava a ridere, poi da lì passavo un'altra e facevo tutta una serata così, a parte i spettacolini che si facevano nei villaggi ma erano in playback, che io non volevo fare, io non li facevo mai, facevo la presentazione di quelli che avevano fatto lo spettacolo, quindi mi aggrappavo sempre a qualcosa per fare il spettacolo. Quando ho scoperto dopo che ci si poteva pure preparare, che le battute si possono anche preparare, dico ma non ci posso credere. Quindi che cosa è successo? Che io sì, io mi preparo quando faccio uno spettacolo, diciamo preparo una rete di protezione, diciamo un 60% uno spettacolo oggi, vai in Rai, lo devi preparare, devi presentare, anche perché qui da Rai vogliono vedere cosa fai, devono censurare, dire, fare qualche cosa, devono sapere cosa tu fai. Cerchiamo di fare il possibile per fare cose a livello scientifico, culturale, cose anche un po' più leggere che hanno loro, con Fabio De Luigi e anche con Fiorello il messaggio era chiaro, cioè seguire le proprie aspirazioni è un fatto positivo ma per raggiungerlo anche qualcuno si raggiunge, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma anche con lo studio, con l'impegno, con la formazione, quindi questo è la cosa, il messaggio che i nostri studenti devono cogliere. Raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso, no? Per ricordarmi chi sono, dove sono, da dove arrivo e che è bene sempre ricordarselo e rimanere con i piedi per terra. Domani alle ore 18, Pesaro Capitale della Cultura accoglierà la colombiana Ingrid Betancourt, figura di livello mondiale nella lotta del terrorismo, al narcotraffico e alla tutela dei diritti umani. A Palazzo Gradari alle 18 porterà al pubblico di Pesaro la sua esperienza di attivista dialogando con Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino. Al Teatro Rossini di Pesaro si conclude la stagione Capitale di Prosa 2023-2024 con il lavoro di Luis Pascal, regista spagnolo di fama internazionale riconosciuto come il massimo esperto di García Lorca vivente. Pascal rilegge il capolavoro del poeta andaluso Nozze di Sangue con protagonista Lina Sastri, attrice, cantante e vincitrice di Due David di Novdoanatello. Lo spettacolo si terrà al Teatro Rossini da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si svolgerà invece a Villa Caprile la speciale ventesima edizione del Caprile Agri Show in collaborazione con Caprile Illuminata. L'Istituto Agrario c'è chi aprirà al pubblico la villa, i propri giardini storici. Sono previste inoltre visite guidate, convegni, mostre, stand degli espositori, spettacoli teatrali, concerti oltre la possibilità di pranzare e cenare a Villa Caprile. Per i più piccoli saranno attivi anche laboratori dedicati al gioco, alla botanica, al mondo dei rapaci. Continuiamo a parlare di eventi. Torna a Pesaro e Fano il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Un appuntamento promosso nella nostra provincia dalla Fondazione Vanda di Ferdinando. Come ci spiega in questa prossima intervista la Presidente Federica Panicali. Riusciamo a portare il primo di giugno nel nostro territorio, ancora una volta la sua terza edizione, una tappa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, per sensibilizzare sul tema delle cure palliative pediatriche e per sostenere le famiglie che al loro interno, nel loro nucleo, hanno minori a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile, ma che non necessariamente hanno un'aspettativa di vita breve. Ecco, hanno diverse necessità, molteplici bisogni e in questo noi crediamo che siano importanti le cure palliative pediatriche, il sostegno che può dare la rete, la comunità. Perché facciamo questo? Perché è fondamentale aiutare queste famiglie mettendole in condizione di usufruire della legge 38 del 2010, per garantire una qualità di vita adeguata alla famiglia e ai bambini che ne fanno parte. Come facciamo? Con un appuntamento, una ciclopedalata, apportando la possibilità di far conoscere la problematica. Il primo di giugno, quindi, vi invitiamo tutti a partecipare. Ci saranno due punti di partenza, uno da Fano, uno da Pesaro e un punto di incontro a metà sulla ciclabile Pesaro-Fano. Quindi vi invitiamo a partecipare. La partecipazione è gratuita. Potete avere maggiori informazioni consultando la pagina Facebook Ciclopedalata per tutte e per tutti. Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Come dicevo, è gratuito, però bisogna registrarsi. Quindi potete mandare un'email a infochioccio alla fondazione di ferdinando.org oppure scaricando direttamente il biglietto su Eventbrite. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Restate con noi questa sera perché tantissimi sono gli appuntamenti. Allora andiamo a vedere con i nostri cartelli che tra pochissimo potrete vedere il Career Day Spring Edition dell'Università degli Studi di Urbino. E poi invece in prima serata, le 21.20, un appuntamento da non perdere perché avremo in amministrando i tre candidati a confronto per diventare sindaco di Urbino. Quindi avremo Maurizio Gambini del centrodestra, Francesca Crespini della lista civica futura e Federico Scaramucci del centrosinistra. E chiaramente domani vi aspetto alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa. E invece vi vado a dire che il telegiornale torna domani chiaramente alle 19.30 con tutte le notizie fresche di giornata. Grazie e buona serata.